Questo è l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dalla riete. Oggi l'amore finisce nelle retrovie mentre voi vi gasate per altri argomenti come viaggi o sport. Magari anche un lavoro extra. Toro, in prima linea l'amicizia. Peccato che a infiacchirla subentrino delle stelle capricciose che scompigliano progetti e sentimenti. Regola da non dimenticare, con i veri amici non mettete in pista investimenti e nemmeno sentimenti. Gemelli, continuate pure a sognare l'amore con la A maiuscola, ma sappiate che la realtà è un'altra cosa. Astrali disarmonie vi confondono e limitano il vostro campo d'azione. Cancro, qualche rimpianto per il come eravamo, ma tutto sommato non vi potete lamentare. Nonostante anni di relazioni il rapporto è ancora stimolante, anche senza troppe parole con il partner vi tendete al primo sguardo. Leone, la creatività fatica ad emergere, ma alla fine ce la fa, perché quando avete in mente qualcosa, tutto vi riesce. La volontà è la molla del successo. Qualcosa oggi vi porterà a scivolare anche nella nostalgia e nei ricordi. Vergine, tensioni e malumori. Non stupitevi se oggi il partner si fa i fatti propri senza curarsi di voi e qualcuno in famiglia vi tiene il muso. Forse è giunto il momento di un discorsetto serio, ma pieno d'amore. Bilancia, le stelle oggi vi regalano un innegabile gusto estetico nelle cure di bellezze negli acquisti voluttuari. Qualcuno di voi si occuperà anche di volontariato a favore dei meno fortunati e in questo modo ringrazierete la sorte per i bonus che vi elargisce. Scorpione, l'amore in pole position nei vostri pensieri. La priorità è far felici le persone care, affinità di gusti e di vedute in famiglia. Sagittario, una buona programmazione è l'anima del lavoro, specialmente quando dovete occuparvi di faccende pratiche e tutto sommato piuttosto noiose. Date uno sguardo anche al vostro guardaroba, forse è il momento di rinnovarlo. Capricorno, state lentamente ritrovando la normalità fatta di serenità ed equilibrio, anche se ancora avrete a che fare con qualche ostacolo da superare. Energia e tenacia lavorano attivamente per trovare una soluzione. Acquario, qualche possibile problema oggi sul lavoro, state attenti a quello che vi dice il capo e cercate di seguire le sue direttive non fati di testa vostra, almeno questa volta. Pesci, l'umore oggi non è dei migliori, alternate momenti di euforia ad altri di malinconia. La serata si prospetta piacevole, arricchita anche da incontri stimolanti. Progetti e aspirazioni non verranno delusi. Grazie. 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 Grazie.